Se sei già iscritto al corso IF Experience o sai per iscriverti, ecco questo video fa per te, entriamo nel vivo. Perché la programmazione neurolinguistica? Perché trattiamo argomenti affinché tu possa esplorare nuove culture, nuove conoscenze per diventare un professionista migliore? Perché investire tempo in un aggiornamento che veramente possa darti grandi potenzialità per futuro? Studiando questa disciplina, dall'inizio degli anni 2000, ho capito e ho percepito in maniera veramente profonda che esiste la possibilità di poter modellare le persone che hanno risultati. E questa è una rivoluzione. Ovvero, se io riesco a modellare le convinzioni, le strategie e lo stato emotivo delle persone che hanno risultati, potrei avere risultati simili. Queste informazioni hanno veramente cambiato il mio assetto, hanno veramente cambiato la mia motivazione per affrontare la professione con un nuovo input. Ecco perché parlerò di PNL. Perché questi input saranno veramente importanti anche per te, per diventare un intermediario ancora più efficace. Che cosa tratteremo nello specifico? Parleremo di processi della comunicazione, ovvero quanto è importante conoscere il percorso della comunicazione, ovvero il processo che fa sì che un consulente possa avere informazioni ben precise dei bisogni del proprio cliente per poterli soddisfare. E parleremo di come affrontare in ascolto attivo ed empatico appunto questa negoziazione, questa relazione. E fondamentale, e spunti dalla programmazione neurolinguistica, sarà capire quale sistema rappresentazionale è quello che domina la tua esistenza e ovviamente quello dei clienti. Perché? Perché noi sappiamo che il mondo viene gestito, vissuto meglio, attraverso i nostri sensi, che possa essere la vista, l'udito o olfatto, gusto e tatto, il famoso VAC. Quale è quello dominante? Qual è quello che può aiutarti a migliorare la tua crescita come persona e a migliorare la relazione con gli altri? Ecco, la programmazione neurolinguistica di base ci permetterà di fare le domande giuste, modello di precisione, capire veramente quello che è il bisogno del cliente, ascoltandolo in maniera attiva ed empatica e poi poter proporre e portare le eventuali soluzioni in una maniera particolarmente efficace nel sistema rappresentazionale che è quello veramente calzante al tuo interlocutore. Questi saranno tre argomenti veramente importanti che tratteremo e ti do un grande consiglio. Prenditi il tempo, iscriviti. Queste informazioni e queste nozioni hanno veramente migliorato, cambiato ed evoluto la mia vita e la mia carriera come uomo e come professionista. Sicuramente potrà farlo anche per te. Ci conto, ci vediamo a Life Experience. Grazie a tutti.